3, 2, 1, via anche Cagliari primo numero stabile sulla ruota di pari, numero 44 se si fa che sta succedendo per il 66 su Cagliari, vedete che curiosità secondo estratto su Genova al 42, è arrivato ora in grafica su Bari, perché il secondo estratto è il 85 andiamo sulla ruota di Cagliari, secondo estratto è il numero 53 rimaniamo su Cagliari, il terzo estratto è il numero 34, il terzo estratto sulla ruota di Cagliari e arriva il quarto estratto del numero 70 con Cagliari aspettiamo l'ultimo numero sulla ruota di Cagliari il terzo di Genova, arriva a partire, arriva il numero 5 a chiudere la ruota di Cagliari portiamoci, portiamo nella fila di Milano dove le palline sono scese nell'urna della ruota di Torino ecco che arriva il primo estratto sulla ruota di Torino è il 19 e andiamo invece a vedere che cosa accade sulla ruota di Palermo vedete, il primo estratto sulla ruota di Palermo il primo estratto sulla ruota di Firenze proseguiamo sulla ruota di Palermo con il secondo estratto numero 83 52, 83, due numeri tratti sulla ruota di Palermo e arriva il terzo dal 57 il primo estratto della ruota di Torino è il quarto numero estratto finisce il ritardo, Palermo arriva con il quarto numero estratto ed è il numero 28 chiusa la ruota di Torino con il numero 14 Palermo si chiude invece con il numero 42 vediamo Firenze, andiamo, spostiamoci l'ultimo numero estratto, la cerchiamo, arriva con il numero 9 per qualche secondo per scoprire l'ultimo estratto sulla ruota di Firenze ed è il 44 e allora Venezia nazionale ruota di Venezia colleghiamoci dunque, sono già pronte le palline dell'urna il primo numero estratto sulla ruota di Venezia è il numero 41 numero 41 il secondo estratto è il numero 48 quindi abbiamo un ambo in decina partiamo anche con la stessa decina sulla ruota nazionale vedete il 42 vengono le prime validazioni Barri e Napoli validate 35 è il terzo estratto sulla ruota di Venezia 70 quarto estratto sulla ruota di Venezia abbiamo un ambo che è stato 50 dossi sulla ruota nazionale abbiamo un ambo in decina validata la ruota di Palermo la ruota di Venezia arriva all'ultimo estratto il numero 8 allora spostiamoci sulla nazionale dove scende in questo istante proprio accanto agli altri il quarto estratto numero 72 siamo in attesa dell'ultimo numero del numero che chiude le stazioni riassi del gioco dell'occhio in attesa ovviamente del simbolo 8 arriva il numero 60 a chiudere le stazioni sulla ruota nazionale